Questa è la casa con il frigorifero che si apre da fuori questo consegna la roba e cosa lo metti dentro? Yamato for the machine pensato per il giappone anche qua un altro frigorifero quindi il concetto è sono i frigorifero più che la casa qua non c'è la casa ma è finta vuol dire che questa è la casa e il frigorifero è fuori è una casa con l'idea che il frigorifero sta fuori dalla casa ci arriva il postino ti mette la roba guarda qui è un altro tipo di frigorifero